Raga, è successo davvero. Hanno rimosso, per una settimana e passa, le costruzioni su Fortnite. Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio. Amore, ha 20 HP, credo. 20-23. È veramente, cioè, è proprio low. 119 gli ho fatto! Bianca, boh. E non muore! Io ti chiedo, amore, ho anche tu. Staccato quasi quell'altro. Ma è l'ultimo team. Sono morta. Ebbene a tutti, ragazzi, e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Raga, oggi finalmente siamo qui con la nuovissima season di Fortnite. Ebbene sì, finalmente è arrivata con tantissime novità. Prima di iniziare con il video, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi da subito al canale e di attivare la campanellina così che vi arrivi la notifica ogni volta che pubblico un video. E mi raccomando, ragazzi, spolliciata più non posso questo video. Ebbene sì, ragazzi, è arrivata finalmente la season 2 di Fortnite del capitolo 3 e hanno raggiunto tantissimi nuovi item e rimesso item anche che ovviamente c'erano in passato. Che vi devo dire la verità, tanta roba per certi versi. E hanno raggiunto anche tante cose molto molto particolari proprio nella mappa in sé. Come per esempio l'arrampicarsi sulle strutture tipo stile Apex, no? Stile anche un po' Warzone. O magari lo scatto per andare più veloce. Insomma, un qualcosa di veramente molto molto particolare che a me personalmente è piaciuto tantissimo. Fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti e ditemi insomma cosa ne ho pensato della nuova season e dei vari cambiamenti e modifiche che hanno apportato appunto su Fortnite. Fatemelo sapere perché sono curiosa. Oggi però ragazzi sono qui per portarvi una bellissima partita su Fortnite in pubblica quindi senza costruzioni e ovviamente ragazzi andremo a sbloccare l'ombrellino insieme al primo tentativo. Quindi mi raccomando ragazzi preparatevi perché ne vedrete delle belle in questa partita. Io vi ricordo ragazzi per iniziare con il video che mi trovate in live tutti i giorni sul mio canale Viola dalle 16 in poi. Trovate il link del mio canale qui sotto in descrizione e vi ricordo dato che appunto c'è la nuova season di Fortnite. Se appunto dovete acquistare il pass battaglia e volete supportarmi nello shop vi basterà inserire appunto il codice creatore croatomist nello shop e potete anche raggarmi su una storia su Instagram per appunto essere repostati. Quindi ragazzi ora non perdiamoci in chiacchiere passiamo subito al gameplay e una buona visione. Salve. Se muori sei un po' bottino. Tra, eh, tra! Cioè che cazzo mi fai lo spadaccino su sto gioco? Non ho capito. È forte nei te. No, 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 no! Aiuto! Te l'ho distrutta, muore, hai fatto? Non chiedi, ti ho fatto un male che lascia perdere. Chi tu? Porco diaz, ho tanto, tanto, ti ho fatto... C'è gente nel palazzo quello lì? Cado? Amore, ha 20 HP credo. 20, 23. È veramente guai, cioè è proprio low. Amica quanto... Porco diaz però. C'è un rinculo pazzurdo però... No, ma è fortissimo, non ne ho capito. D'anni di fa, eh? D'anni di fa, è sbroccata. No, mi si è buggata la visuale. Ok, no, ora no. Si sparano. Che figata questa cosa. È mio, è mio, tranquilla. Te lo lascio? Io, tu, tu, tu. Sono una cosa di player, no? Secondo me? Ma il caro armato? Sopra. Eh, prendiamolo, no? Va bene, va bene. Carro armato! Se va anche nell'acqua è il caro armato di Dio, questo. Ok, confermo. Il caro armato di Dio. Andiamo. Uh, stanno faiutando qua sopra. Time to shine. Eccoli là. Minchia. Che meno strana che ho scoperto. 35. 35, carcato. Sono qua dentro. Potremmo scendere e ucciderli. 52. Questo può cacciarti nei guai o salvarti dai guai. A te la scelta. Allora, mi si carano armato, mo. Uno nel caro armato, va. Attenta, ma attenta, dietro. Non posso esplodere. Torno di che sparo col carro. La scicca blu. Picconato, Betz. Sto che è caro armato, va. Ok. Io qui ho picconato il mio. Guarda il mio. Uh, guarda. Minchia. Che palle, però sparo due colpi. Non è, cioè... E' entusiasmante quando erano tre colpi. Ma c'è un pollo. Magari non vuoi scettare un pollo con un carro armato. Minchia. 35. 52. 52. 119 li ho fatto? Hai preso in head. Corraggio. Eh, io ho fatto due 52. Quindi c'è l'head, c'è il body. 35, carcato. Scendi, scendi. Aspetta. 32. 32 di nuovo. Distrutto? Minchia l'ho distrutto, ho fatto. Non mi piace l'ho, voglio il termico di nuovo. L'altro era andato di qua, eh. Si stava nascondendo. Per curarsi, non si è scappato. Da sopra? Tanto, sei? Vai, te lo lascio. Ah, ah, ah. Oh, dammi il termico, lascio sto coso. Mi dico che sinceramente non lo voglio neanche. Qua. Facca, oddio, distrutto, mare, guante. Craccato qua su quell'altro. Facca, duro. Fatto. Distrutto? Nooo, mare, qua sopra. Scendiamo. Vai. Questa l'ho distrutta, l'ho staccata. Bianca, bo. E non muore! Io sono Optimus Prime. Oh, cazzo! Merda, merda, sono One Shot, io. Aspetta. È morta, è morta. Ok, io. La pusho. Sai che non posso coprirmi. Sono qua da te? Non mi è anche bello. No, però... Mi si nove, mi si nove ancora? Mi toccato. Vinti nove, venti nove? Bianco? Toccato? L'altro lo vuole arrestare? Ventotto, triplo, ok, fatto? Dì, amore, vuole arrestarlo. È nella casa. È riuscito un'altra sciocca, piuttosto. Non fa lo arrestare, amore. Eh, non so dov'è. È nella stalla, amore. È nella stalla, nella casa. No, amore, non c'è qua. Ti dico che non c'è. Ah, sì? Minchia... No, non mi prendeva i cosi. L'ho detto. Era armato. No, 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 sono morto. Era armato di loro, che c'è. Guardate, era lo nice. Buono, buono, buono. C'ho le shock. Tieni le shock. Scappa. No! Georgina, no! Addio, amore, è stato bello. Georgina! È stato bello, morì, mio. Eh, termico! È lo scudone, è lo scudone, è lo scudone, amore. Fattolo, mi raccomando, con la vita non ti si ripristina. Ma è l'ultimo team! Sì. Sono morta. Mi so. Mi sono le ragnatela ancora qua. Sì, sì, sì. Grandissima. Bravissima. Grande. Devi andare con la shock. Sì, fino aci là. Fra, you are fucking dead! Corri di shock, fight. Fida. Sì, fai, 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 fai. E' fuori. Il termico è fuori di testa. E' OP, E' OP, E' OP sto caccio. Picchialto col fatto che non hai le building, è proprio quella la cosa forte. Cioè, non puoi buildare in pubblica, ma so troppo forti. Strano però non buildare, mi fa strano, però è figo. E' strano, però è, ripeto, c'è chi dice che è una merda, alla fine è in pubblica, quindi se vuoi fare i game normali vai in arena. Se vuoi fare una cosa differente per divertirti un po', te ne vai in pubblica. A me piace in realtà, ci sta, perché a me non trovi quei traiardini lì che stanno 50 ore a giorno in creativa e dipenduto da come ti posizioni, da come ti muovi, da come miri. Cioè, questa è la cosa bella, a me piace, a me non dispiace, sebbene io ami buildare. Ah, raga, bella partita. Ci andiamo a prendere così l'ombrellino nel grand chilling, vediamo che ombrellino è. Che merda. E' brutto? No, ma non mi dica è brutto. Fermi, andiamo l'ombrellino. Fa schifo. Ferma. Ma mi piace un casino, è il gambrello. Bellissimo, bellissimo, a me piace un casino. Nero e rosso, non può non piacermi a me, è troppo bello. Peraltro sono anche in registrazione, quindi il suo video andrà sul canale. Quindi, se volete fare anche uno spam in chat con scritto, ciao YouTube, potete farlo tranquillamente. Cioè, questo è il momento di farlo. Non avete... Cioè, ora o mai più, capito? Cioè, ora o mai più, raga. Abbiamo pensato anche l'ombrello. No, a me piace il fatto che non ci sono le building. Quanto meno è una cosa differente rispetto al solito. E in modo divertente, eh, non di competizione. Se uno si vuole divertire, è bella questa modalità, a parer mio. Tanta roba comunque, GG. Grazie.